Una bellissima edizione, un compleanno per i dieci anni della Veleziana sicuramente riuscito. Una regata che credo sia stata apprezzata da tutti, quest'anno con la novità anche di due cancelli e quindi una classifica che si può coniugare con tutte le imbarcazioni e con tutti gli arrivi. Una festa con tantissime barche, con tantissime persone, barche di tutti i tipi, dai maxi con caratteristiche di performance altissime alle barche che la domenica solcano le acque della laguna e si divertono. La prima volta che faccio la Veleziana è stata una bellissima esperienza, anche per me. Non è facile perché Venezia non è una città facile, per cui tutto diventa un po' più complicato. Però in realtà abbiamo avuto una grande soddisfazione. Quello che abbiamo particolarmente curato, nonostante ogni tanto i regattanti rumoreggiassero anche per radio, è l'aspetto sicurezza. Far partire, per esempio, la regatta con 200 metri di visibilità era non possibile e non sicuro. Un percorso bellissimo, come ricordavo con degli amici, questo è un percorso che noi veneziani facciamo abbastanza normalmente per rientrare e diventa una regata sempre perché c'è un punto di onore di solito non accendere il motore e cercare di arrivare di porto alla compagnia a Vida. Per cui onore al merito ai regattanti che sono arrivati e anche quelli che sono riusciti a passare i cancelli. Complimenti a tutti, dal punto di vista dell'acqua è andato tutto benissimo. Penso che sia un'edizione che ricorderemo nel futuro. Penso che sia un'edizione che ricorderemo nel futuro.